Questo è l'anno in cui vogliamo portare la banda larga in tutta la regione Liguria, anche nella zona ancora scoperta. Ci sono tante piccole varie, tanti piccoli comuni in cui gli operatori economici non sono andati perché non è redditizio, lì ce ne andiamo noi, con un investimento molto grande, in parte concluso e in parte in corso. Chiediamo ai comuni, agli abitanti di tutte queste piccole zone di segnalarci i buchi di rete, investiremo perché non ce ne siano più e perché la banda larga arrivi in tutta la Liguria, anche nelle fazioni più piccole, anche in quelle non abitate d'inverno ma in cui l'estate c'è un po' di attività turistica e vogliamo servire anche quelle. Credo che è un'occasione, uno strumento che dobbiamo mettere a disposizione dell'insieme delle nostre imprese per essere competitive, per essere legate ai mercati internazionali, per essere raggiungibili a volte per le ubicazioni difficili che possono avere nell'entroterra. Come regione abbiamo messo molti fondi, il mio assessorato ha messo molti fondi per quanto riguarda i fondi europei, abbiamo messo 18 milioni di euro per infrastrutturare la rete, 5 milioni di euro per costruire servizi che potessero essere veicolati attraverso la rete e un milione di euro per un'attività di education all'utilizzo, a invogliare gli utenti a utilizzare questa rete. Adesso stiamo vedendo nei residui dei fondi europei, probabilmente riusciremo a trovare circa un milione, un milione e duecentomila euro che aiuteranno a coprire quelle zone che ancora sono sprovviste di questo servizio. Resta da coprire, come si è visto dalle cartine presentate questa mattina, sette comuni del nostro territorio. Poi ci sono alcuni comuni che sono già stati raggiunti ma che hanno qualche frazione che ancora non usufruisce del servizio e poi strada facendo molto probabilmente scopriremo anche realtà di territori nei quali i privati sono andati quindi noi non potevamo intervenire perché non possiamo metterci in concorrenza con i privati che hanno ritenuto che ci fosse un mercato per intervenire ma che poi strada facendo si stanno accorgendo che invece le condizioni di mercato non ci sono e quando si inizieranno queste situazioni anche su questi cercheremo le risorse per andare a completare l'intero territorio e a coprire l'intero territorio. Noi abbiamo infrastrutturato la rete nel territorio regionale, su questa rete possono essere veicolati anche servizi che mettono a disposizione i privati quindi credo che da questo punto di vista ci siano tutte le condizioni per collaborazioni che vadano nel senso di migliorare la qualità del servizio per gli utenti e per i cittadini.